il punto a nido d'ape lavorato in circolo va lavorato sul numero pari di maglie divisibile per quattro allora io ho già fatto alcuni giri di maglia accoste uno un dritto un rovescio un dritto un rovescio adesso inizio il punto nido d'ape per la lavorazione del punto che è formato da quattro giri vi consiglio di utilizzare un contagiri in modo da non sbagliare la ripetizione il primo ferro va lavorato tutto a maglia a rovescia quindi la nostra maglia rovescia per tutto il primo giro del lavoro il primo giro del nostro punto a nido d'ape va lavorato tutto a rovescio terminiamo il nostro primo giro a rovescio passiamo il marca punti e iniziamo il giro numero 2 il secondo giro del punto a nido d'ape si lavora utilizzando la maglia dritta e la maglia dritta presa sotto allora iniziamo lavorando un diritto e poi facciamo la maglia dritta presa sotto che in pratica va lavorata inserendo il ferro sotto il punto rovescio che abbiamo lavorato nel giro precedente quindi non lavoriamo al dritto prendendo la maglia come si deve ma lavorando una maglia al dritto infilando il ferro sotto la maglia lavorata il giro precedente ecco qua poi si lascia scivolare e abbiamo questo filo molto lento il secondo ferro va lavorato ripetendo sempre un diritto normale e un diritto preso in basso un diritto e un diritto preso in basso è importante quando lavoriamo prestare attenzione a non sbagliare l'alternanza dei punti e nel caso ci fosse un errore nella lavorazione ce ne accorgeremmo alla fine del giro in quanto l'ultima maglia va lavorata con il dritto preso in basso quindi iniziamo con una maglia al dritto normale terminiamo con una maglia al dritto preso in basso allora si riconosce la maglia lavorata al dritto in basso preso in basso perché abbiamo questo filo molto molto lento quindi riprendiamo lavorando una maglia al dritto normale una maglia al dritto preso in basso un dritto normale uno preso in basso un dritto normale uno preso in basso e continuiamo così per tutto il giro una maglia presa sotto una maglia diritto una maglia presa sotto o in basso come volete una maglia diritto una maglia presa sotto una maglia al dritto e l'ultima maglia va presa in basso va presa sotto ecco qua passiamo in marca punti e passiamo a lavorare il terzo giro che è nuovamente tutto a rovescio quindi si riinizia lavoriamo tutto il nostro giro a rovescio ecco i nostri ultimi punti a rovescio abbiamo terminato il terzo giro passiamo il marca punti e andiamo a lavorare il quarto giro in questo caso ritorniamo ad alternare la maglia a dritto e quella a dritto presa in basso l'unica cosa è che mentre prima abbiamo iniziato con una maglia a dritto adesso iniziamo con la maglia presa in basso quindi inseriamo il ferro sotto la maglia e poi lavoriamo una maglia a dritto normale nuovamente una maglia presa in basso e un diritto normale un diritto preso in basso e un diritto normale un diritto preso in basso un diritto preso in basso e un diritto ecco continuate così così fino alla fine del giro ecco Astros ecco 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 terminiamo il nostro giro con una maglia dritto mentre l'abbiamo iniziato con una maglia dritto presa in basso con questo quarto giro abbiamo terminato il numero di ferri da ripetere per avere il nostro punto a nido d'ape ora naturalmente si continuerà lavorando dal primo al primo giro al quarto ogni volta si ripeteranno i ferri i giri dall'1 al 4 questo fino a quando non raggiungete l'altezza del lavoro che più vi necessita ora il motivo non si nota tantissimo perché si è alle prime ai primi giri primi ferri andando avanti vedremo come svilupperà il nostro disegno di dodame